Divertimento, gioco, svago e shopping a costo zero. Sono stati questi gli ingredienti fondamentali dello Swap Party che si è svolto a Roma domenica 29 gennaio. Swap vuol dire barattare, scambiare. Ed è proprio uno scambio quello che c'è stato domenica scorsa. Tutti i partecipanti hanno portato oggetti, vestiti, accessori, libri, oggetti d'arredo e quant'altro e durante il party li hanno scambiati con oggetti appartenenti ad altri proprietari. Eccoli qui mentre scrutano con attenzione la merce in attesa di scegliere il prodotto desiderato o perlomeno più utile. Ma lo Swap Party non è stato solo scambio, ma anche moda. Ecco qui gli Swapper cimentarsi in un vero e proprio set cinematografico. Ciao! 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 Swap Party è stato anche trattenimento. Ecco qui una dimostrazione di tango. Ciao! Ciao! ! Ciao! Ciao! Ed anche il pubblico è stato coinvolto. Swap Party è anche solidarietà e missioni. L'evento si è svolto a Roma, ma gli organizzatori, dietro le telecamere, hanno anticipato che porteranno lo Swap Party anche in altre regioni italiane. e noi ci siamo fatti promettere anche nel Salento. e noi ci siamo fatti promettere anche nel Salento. Sì! 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 Grazie a tutti.